eccoci qui ciao ragazzi e benvenuti in uno dei nuovi video di viene vivere all'estero oggi sono qui per parlarvi di una cosa molto tipica delle cucine del regno unito e dell'irlanda la kettle quindi la kettle e questo bellissimo accessorio che c'è nelle cucine questa è una di quelle serissime veramente col design di marca e tutto e ne potete trovare di tutti i tipi più o meno costano i modelli base quelli di plastica una ventina di euro questi qui top costeranno una ottantina e praticamente con la kettle voi riuscite a fare di tutto e quindi è l'anima data proprio per fare il siccome qui la gente si fa il tè ogni due per tre allora con questo sistema si riesce a scaldare l'acqua nel giro di pochissimo tempo perché altrimenti se uno dovesse fare il tè sul sul fornello che qui può essere più delle volte a corrente potrebbe essere anche a gas ovviamente ci vuole più tempo invece questa è 3000 watt e quindi nel giro di davvero pochissimo vi scalda anche uno due litri comodissimo anche per noi italiani se dobbiamo fare la pasta o cose del genere mettiamo a bollire l'acqua qui è così nel giro di praticamente 12 minuti secchi la nostra pasta è pronta quindi davvero la kettle è la compagna di viaggio di tutte le persone che sono qui in regno unito e davvero risolve il problema di scaldare l'acqua piccole quantità grandi quantità quanto volete voi c'è la barra graduata dietro e decidete se volete fare una tazza riempirla tutte vi dicendo è davvero è una gran 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 comodità non c'è bisogno di sporcare padelline vi dicendo e risolve il problema altra cosa che vedete dietro di me qui c'è un bel frullatore ma c'è anche un bel tostapane qui un altro è un altro classico avere il tostapane fisso in cucina perché qui si usa non si usa il pan carré ma si chiama in maniera diversa insomma pane comunque pane in cassetta ed è un pane secondo me più buono del pan carré italiano classico perché qui è un pane fresco che scade dopo poco tempo se non lo mangiate diventa subito ammuffito e quindi viene bene usare qui la tostapane ok quindi questi sono i tipici accessori delle cucine poi per chi è più smanettone gli piace fare roba roba particolare adesso vanno di moda questo un po in tutto il mondo anche in italia questi super frullatori che ne sanno una più del diavolo bene ragazzi questa è la piccola introduzione al mondo soprattutto della regina della cucina qualche la kettle e se per caso la volete regalare a qualcuno italiano fate sarà sicuramente un regalo gradito unica cosa siccome in italia i contatori sono tre kilowatt e mezzo probabilmente se la usate c'è qualche altra roba acceso salta la corrente ok ragazzi spero che questo video sia stato utile e ci vediamo in uno dei prossimi a presto ciao